8 condanni e 5 assoluzioni. Questo è il bilancio del processo scaturito all'inchiesta sulle Aulus Fasulle che nell'aprile dei tre anni fa portò all'esecuzione di alcuni provvedimenti. L'operazione, eseguita esattamente il 9 aprile del 2013, smascherò quella che, secondo le ipotesi dell'accusa, sarebbe stata una vera e propria organizzazione dedita alle truffe. Secondo quella che fu allora la ricostruzione degli inquirenti, due Aulus di Rende, il Sorriso e il Cuore, organizzavano delle raccolte fondi per devolvere denaro in bereficenza. Le raccolte avvenivano ovunque, spesso in prossimità dei centri commerciali, non solo in Calabria ma anche in altre regioni, in Sicilia, nel Lazio, in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I soldi però, secondo quanto riferito agli investigatori, non andavano in beneficenza ma finivano nelle tasche della presunta organizzazione. Ora, a più di tre anni di distanza, sono arrivate 5 assoluzioni ed 8 condanne, che vanno dai 4 anni e 6 mesi ai 2 anni e 6 mesi, al di là dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.